Il regno della creazione è sparso su tutta la terra e gli uomini non lo vedono. Se coloro che vi dirigono vi dicono, ecco, il mistero della creazione è nelle altezze del firmamento. Allora gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono è nel mare, allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno invece è dentro di voi e fuori di voi. Quando conoscerete voi stessi, allora saprete quale fu la vostra vera fonte di vita. Ma se non vi conoscerete, allora sarete nella povertà. Voi stessi sarete la povertà. Colui che conosce tutto, ma non conosce se stesso, ignora tutto. Quando in voi stessi genererete ciò che avete, esso vi salverà. Se in voi stessi non avete nulla, ciò che non avete vi ucciderà. Allora giusti non dovrebbero. Allora giusti non vena, ciò che ovviamente sono in un bel livello. Di campionare, ciò che ho avuto. Sono andata, ciò che hai, assicurando i più, assicurando i più, assicurando i vecchi. Cominiamo. Allora giusti non vengono. Allora giusto non vengono. Allora giusti non vengono. Bocca, assicurando i più, assicurando i più, assicurando i più. Grazie a tutti.